Gittarella alla diga di Rochemoll con l'Alberto che oggi bara con la bici elettrica saluta il pubblico. Amici partiamo ci vediamo in salita si è superato a Rochemoll dove c'era un po' di traffico si prosegue a salire Albe sei stanco? Sei sudato? Fanculo! Il doping elettronico all'imbocco della strada sterrata saremo superati da una Citroën 2 cavalli grandissimi 90 anni lui 86 lei dalla Francia grandi di Ansei spettacolo oggi strada trafficatissima gip fuoristrada pick up quad moto da enduro 2 cavalli da rally bici poche gente a piedi nessuna traffico come in autostrada e poi dove cazzo fai con la jeep? in spagnolo i ciechi i ciechi fanno volante in braille 1840 siamo quasi arrivati al bivio per la Decoville e poi decidiamo se proseguire fino alla diga o tornare indietro superato il bivio per la Decoville proseguiamo per la diga che ricordiamo viva la diga che bi che dio la benediga paesaggio suggestivo definirei non saluta non saluta non dà la mano arriva la diga sempre spettacolare qua esco il in in la in l'acqua del principale in che va fino agli oventi ma noi ci fermiamo molto prima e prendiamo il sentierone e adesso è vero che la prima cosa è vero è vero è vero è vero è vero Dio di qua Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Che cagnare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.